Molte persone sono affascinate dal motociclismo. I motociclisti sono attratti da una straordinaria dinamicità e da una intensa percezione della strada. Questa passione però può risultare anche pericolosa. L'eccessiva velocità viene spesso sottovalutata e non tutti hanno la padronanza del proprio mezzo, soprattutto se non si è ben preparati. Per questo motivo oggi Marco si dirige verso il Safety Park di Vadena, dove prenderà parte ad un corso denominato Warm Up, appositamente studiato per i motociclisti. Marco vuole migliorare la sua tecnica di guida. In questo corso mi aspetto di imparare come curvare correttamente, come frenare correttamente, trucchi che un istruttore qualificato mi può insegnare. Il Parco Guida Sicura Safety Park di Vadena offre un vasto programma di corsi per tutte le età e categorie di mezzi di trasporto. I contenuti del corso vengono decisi insieme ai partecipanti, anche per quanto riguarda i corsi per motociclisti. Il Warm Up si rivolge bene o male a tutti i motociclisti, sia giovani che meno giovani. È ideale, dopo la stagione invernale, quando si riprende in mano la moto, dopo vari mesi in cui per motivi di freddo non si è guidata la moto. Serve proprio per riprendere dimestichezza col mezzo e quindi muoversi già dal bel inizio in maniera più sicura. I contenuti del corso sono diversi a seconda del cliente. Questo vuol dire che a seconda della capacità di guida, esperienza di guida del cliente, l'istruttore ovviamente modula il corso in maniera diversa. I corsi per la guida sicura con la moto fanno ora parte della campagna provinciale di sensibilizzazione No Credit. La campagna No Credit è una campagna promossa ovviamente dalla provincia autonoma di Bolzano. Il Safety Park è un centro di guida sicura di proprietà della provincia autonoma e ovviamente noi facciamo corsi per motociclisti e quindi sono molto contenta di questa collaborazione che trovo assolutamente proficua e ideale. Lo scopo della campagna No Credit è ridurre i numerosi incidenti motociclistici che avvengono durante le stagioni più calde. Purtroppo molti di questi incidenti risultano fatali. Attraverso la promozione e la pubblicità si fa appello a tutti i guidatori affinché affrontino la guida con prudenza e rispetto delle regole. Siamo partiti nove anni fa con la prima campagna di sensibilizzazione e in quell'ambito abbiamo appunto dovuto prendere lo spunto da una situazione veramente grave dove abbiamo dovuto contare 28 incidenti mortali sulle strade dell'Alto Adige e pertanto ci siamo chiesti come intervenire. Abbiamo ritenuto opportuno appunto cercare questa collaborazione che abbiamo anche trovato e consiste nel fare sì che ci si può valere di un buono premio finanziario per appunto fare un corso sulla sicurezza presso il nostro safety park. Prima dell'inizio del corso l'istruttore provvede al controllo obbligatorio del mezzo. Anche per l'utilizzo quotidiano è importante che la moto sia in ottime condizioni così come è fondamentale il giusto abbigliamento e Marco è attrezzato al meglio per le sue gite in moto. Bisogna controllare bene i freni della moto se sono le pastiglie il consumo delle pastiglie ancora a posto. La sicurezza passiva riguarda l'abbigliamento del pilota. Quando la sicurezza attiva ha smesso di funzionare significa che succede qualcosa. In quel momento lì è molto importante che il pilota è vestito come si deve. È molto importante una giacca e dei pantaloni allestiti di protezioni adatti per motocicli. Il casco indispensabile per ogni motociclista è previsto dalla legge deve essere della giusta taglia. Esistono tre tipi di caschi principali. Uno è l'integrale che è il più sicuro di tutti. Il casco apribile che è un semi integrale dove c'è la possibilità di aprirlo o di chiuderlo. C'è chiaramente sempre il rischio che il pilota lo lascia aperto. Il terzo è il casco jet che è dove gli manca la mentoniera. Importante sarebbe di sceglierli sempre come materiale esterno, di sceglierli in fibra di vetro resina e fibra di carbonio. Per ogni motociclista una moto. Al momento dell'acquisto l'altezza del guidatore gioca un ruolo importantissimo nella scelta della moto. Anche il modo in cui si intende utilizzare il mezzo è altrettanto importante. Torniamo al Safety Park di Vadena. Dopo un'introduzione teorica è giunto il momento per Marco di passare alla pratica nell'area esterna. Innanzitutto si simula un percorso con numerose curve. L'istruttore spiega come fare e lo mostra con la sua moto. Esistono molti modi per affrontare una curva. La distribuzione del peso, la postura e anche sterzare al momento giusto giocano un ruolo fondamentale. Marco cerca di mettere subito in pratica ai consigli dell'istruttore. Questo tipo di esercizi è importante per avere il giusto comportamento alla guida. È una cosa sicuramente importantissima e dopo una lunga pausa magari invernale o d'estate che da poco tempo di guidarla è rimasto fermo. Appena si sale sulla moto fare stare molto molto attento e andare tranquillissimo specialmente all'inizio finché prendiamo un attimino la mano. Nella seconda parte Marco si mette alla prova nella tecnica visiva adatta ad un motociclista. Sguardi mirati e precisi movimenti della testa rendono possibile la guida all'interno dello speciale percorso. L'istruttore tiene costantemente d'occhio il suo allievo e commenta la sua corsa. Ultima ma importantissima parte del corso la frenata. Prima di tutto l'istruttore spiega molto bene poi mostra personalmente come fare una frenata d'emergenza. Una cosa importantissima o la cosa più pericolosa se posso dirlo è fare una frenata d'emergenza perché per fortuna non è che dobbiamo fare tutti i giorni frenata d'emergenza ma come si fa una frenata d'emergenza? Chiaramente dipende dalla moto se abbiamo una moto con ABS o senza ABS. Chiaramente senza ABS diventa molto molto più difficile. Perché molto più difficile? Perché facendo una frenata d'emergenza, una frenata brusca vuol dire rischiare di bloccare la ruota anteriore e se si blocca la ruota anteriore i motociclisti lo sanno vuol dire purtroppo andare anche per terra. Ora tocca a Marco eseguire le frenate mentre l'istruttore cerca di perfezionare ogni suo tentativo. Da principio titubante Marco migliora di volta in volta. Dopo un po' di pratica la frenata di emergenza risulta eseguita nel modo giusto. Con questo esercizio si conclude il corso durato 4 ore. In questo corso ho imparato a conoscere a gestire la mia moto per garantire una sicurezza a me e agli altri. Grazie a questo corso Marco si è preparato nel miglior modo possibile alla guida della sua moto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.